L'ite fra due uomini ieri sera nel centro storico di Caltanissetta. Nella fattispecie, intorno alle 8, in piazza Garibaldi, si sarebbe consumato un alterco fra due uomini di nazionalità marocchina. Uno dei due avrebbe avuto la peggio, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, infatti, è arrivata l'ambulanza del 118, che ha condotto l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia del capologo Nisseno. Secondo la ricostruzione dell'uomo, riferita a medici e poliziotti, quest'ultimo sarebbe stato picchiato da un suo connazionale ubriaco, che gli avrebbe anche spruzzato uno spray urticante negli occhi. Da qui sono partite tempestivamente le indagini della polizia, per fare ulteriore luce sulla vicenda.